Ciao, volevo comunicarti che sul link che trovi sopra nella descrizione hai a disposizione tutti i prodotti che io ho selezionato su Amazon per te. Ci sono sia prodotti per i capelli, ma anche prodotti per la cura della barba, per la cura del corpo, ma anche per radersi, per accorciare i capelli, per accorciare la barba o per radere il corpo. Quindi tranquillamente puoi visualizzarli cliccando nel link sopra e acquistarli direttamente su Amazon, che è la cosa più importante in sicurezza con i tuoi metodi di ripagamento preferiti e attraverso la spedizione Prime. Quindi che aspetti? Clicca sul link. Ciao!